Ciao a tutti, io sono Sveva e a novembre mi sono laureata in Global Entrepreneurship Economics and Management, nello specifico curriculum in International Business and Entrepreneurship, e mi sento di consigliare il mio corso di laurea per tre motivi fondamentali. Il primo è che è completamente erogato in lingua inglese, cosa dal mio punto di vista veramente fondamentale. Il secondo punto è l'aria internazionale che si respira stando, rimanendo anche solo nel campus di Varese. Questo permesso dai corsi tenuti dai docenti della San Francisco State University, che ti permettono di avere un'idea di quanto differente sia la didattica oltreoceano. Il terzo punto sono gli Startup Lab, che sono dei laboratori che hanno come protagonista delle startup vere e proprie, e che permettono quindi agli studenti di toccare con mano e di capire che cosa voglia dire fare innovazione nel mondo reale.